Possiamo iniziare, buonasera a tutti, benvenuti all'esterno attaccato, vabbè lei Ok, cominciamo, lui sta venendo a dire The Pod, The Fire Will, The Osbring The Pod, The Fire Will, The Osbring The Pod, The Fire Will, 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 No, no, no Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.